Giappone, bambini LGBT vittime di bullismo non protetti. Politiche nazionali e curricula orientamento sessuale e identità di genere abbandonati. Il governo giapponese non è riuscito a proteggere i bambini lesbiche, gay, bisessuali e transgender LGBT dal bullismo nelle scuole, ha affermato Human Rights Watch in un rapporto pubblicato oggi. Con l'aumentare del dibattito pubblico sulla garanzia della parità di diritti per le persone LGBT, le misure antibullismo del paese saranno riviste nel 2016. Il rapporto di 84 pagine, The Nailed It Sticks Out Gets Hammered Down, Bullying and Exclusion of LGBT Students in Japanese Schools, espone i bambini e gli studenti LGBT al bullismo e ostacola l'accesso alle informazioni e l'espressione di sé. Politica, che è una delle cause. Il bullismo grave si verifica frequentemente nelle scuole giapponesi. Tuttavia, la politica di prevenzione del bullismo di base del governo non specifica i bambini e gli studenti LGBT, che sono tra i gruppi più vulnerabili al bullismo. I bambini LGBT hanno riferito a Human Rights Watch che gli insegnanti li avevano avvertiti che essere aperti sull'essere gay o transgender a scuola era egoistico e li avrebbe resi infruttuosi a scuola. Sebbene il governo si sia mosso per sostenere i bambini e gli studenti LGBT negli ultimi anni, la politica di prevenzione del bullismo del governo rimane silenziosa sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, ha affermato Kanaedoi, rappresentante di Human Rights Watch Japan. I paesi dovrebbero seguire gli standard delle migliori pratiche internazionali e rivedere immediatamente le loro politiche antibullismo per proteggere i bambini LGBT. Human Rights Watch ha intervistato dozzine di bambini, studenti e giovani LGBT che si sono recentemente diplomati in 14 prefetture. I partecipanti alle interviste sono stati incontrati tramite segnalazioni di consulenti e sostenitori o tramite sondaggi diffusi su Facebook e Twitter. Human Rights Watch ha anche intervistato ricercatori di scienze sociali, psichiatri, avvocati, funzionari governativi ed esperti di politiche educative. In questo rapporto, le esperienze di quattro di loro sono state riprese come vignette. Ciò si basa sul fatto che i manga sono spesso una fonte familiare di informazioni per i giovani giapponesi per trovare modelli di ruolo LGBT. Negli ultimi anni, il Ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia Mixed ha emesso avvisi riguardanti bambini e studenti LGBT e sta inviando un messaggio importante che le scuole dovrebbero prendere in considerazione i bambini appartenenti a minoranze sessuali e di genere. Tuttavia, la politica antibullismo di base del governo non fa menzione della posizione unica e vulnerabile dei bambini e degli studenti LGBT. Questa disparità è aggravata dalla mancanza di politiche vincolanti sull'inclusione delle persone LGBT nel processo educativo e dall'inadeguata formazione degli insegnanti su genere e sessualità. Le attuali leggi che richiedono alle persone transgender di diagnosticare un disturbo dell'identità di genere è come requisito per il cambiamento di genere, riconoscimento legale del genere, e possono avere gravi conseguenze psicologiche per i giovani. Il bullismo è un grosso problema sociale in Giappone. I bambini spesso prendono di mira e qualcuno che è un po' diverso e molestano, minacciano e talvolta usano la violenza. Tale bullismo può anche essere basato sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere di un bambino, che può essere il suo effettivo orientamento sessuale, identità di genere o percepito da altri, secondo Human Rights. Ma nonostante decenni di copertura mediatica e dibattito, soprattutto nei casi in cui il bullismo ha ucciso le sue vittime, lo Stato non ha affrontato le sue cause profonde, compresa la vulnerabilità dei bambini LGBT. Il governo, d'altra parte, promuove un senso di norme, disciplina e armonia nelle scuole, e le autorità sottolineano la loro posizione secondo cui nessun bambino in particolare è vulnerabile al bullismo. In un incontro con Human Rights Watch un funzionario del Ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia ha ribadito che adotta un approccio eolistico e al bullismo, affermando che affronterà i bisogni dei gruppi vulnerabili come le persone LGBT, che porterebbe a un trattamento speciale per tali bambini. Tuttavia, è chiaro che la e-politica di base del governo per la prevenzione del bullismo è annunciata dal Ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia nell'ottobre 2013 è insufficiente. La e-politica enfatizza l'educazione morale sulla consapevolezza normativa e sull'autocoscienza degli insegnanti, piuttosto che sui diritti dei bambini o sulla formazione obbligatoria degli insegnanti. Non si fa menzione di bambini studenti LGBT. La ricerca di Human Rights Watch mostra che quando i bambini LGBT raccontano ai loro insegnanti del loro bullismo, c'è una notevole variabilità nel modo in cui gli insegnanti rispondono. Non esiste una formazione completa obbligatoria degli insegnanti su genere e sessualità, quindi quando i bambini e gli studenti LGBT sono vittime di bullismo, la risposta di ogni insegnante dipende interamente dalle opinioni del singolo insegnante su LGBT. Ad alcuni bambini è stato detto che se non volevano essere vittime di bullismo in futuro, avrebbero dovuto conformarsi un po' di più alle norme di genere della società. Alcuni hanno affermato di non poter denunciare il bullismo omosessuale perché gli stessi insegnanti stavano scherzando e imprecando contro le persone LGBT. Kiyoko N., una studentessa lesbica in una scuola di Tokyo, ha detto che i suoi compagni di scuola media la prendevano in giro perché non era una ragazza e poi la circondavano e la picchiavano con carta arrotolata. Gli insegnanti della scuola materna hanno assistito ripetutamente alla scena del bullismo, ma non hanno fatto nulla. Era risaputo che ero vittima di bullismo. Era risaputo anche che gli insegnanti non mi avrebbero aiutato. Tadashi, uno studente delle superiori di Nagoya, ha dichiarato a Human Rights Watch, forse se avessi detto al mio insegnante che ero vittima di bullismo, avrebbero cercato di aiutarmi. Sarebbe potuta andare anche peggio. IK, un ex insegnante che lavora come consulente per i giovani LGBT a Fukuoka, sottolinea. Anche se un insegnante vuole aiutare, la scuola e il consiglio dell'istruzione non hanno un sistema in atto per sostenerlo. Trasformati in Anche andare a scuola può essere una sfida per i bambini transgender. Secondo la legge giapponese, Gender Identity Disorder Special Case Sact, per cambiare genere in base alla propria identità di genere, riconoscimento legale del genere, una persona deve essere diagnosticata come affetta da una malattia mentale e sottoporsi a una serie di procedure tra cui la sterilizzazione. È obbligatorio. Questa è una violazione dei diritti umani e un sistema obsoleto. Negli ultimi anni, il governo ha affermato che va bene prendere in considerazione bambini e studenti transgender senza una diagnosi, ma Human Rights Watch ha riscontrato risultati contrastanti. Alcuni bambini e studenti transgender sono costretti a indossare uniformi che non corrispondono alla loro identità di genere. Gli viene negato l'accesso a servizi igienici appropriati basati sul genere e sono costretti a partecipare ad attività di segregazione di genere che li fanno sentire a disagio. Nell'aprile di quest'anno, il Ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia ha rilasciato materiali per diffondere informazioni su attuazione di misure perfezionate per gli studenti in materia di disturbo dell'identità di genere, orientamento sessuale e identità di genere, per gli insegnanti. Il documento afferma che le scuole devono essere luoghi sicuri per tutti gli studenti ed è una mossa incoraggiante, ha affermato Human Rights Watch. Tuttavia, questo documento non è vincolante e dovrebbe essere rafforzato, in particolare affermando che i bambini e gli studenti transgender non necessitano di una diagnosi medica per ricevere un'istruzione basata sulla loro identità di genere. Il crescente dibattito nazionale sulle questioni LGBT è un lato positivo, ha affermato Human Rights Watch. Il governo dovrebbe sfruttare questa opportunità per garantire che le esigenze dei giovani LGBT siano pienamente integrate nel processo decisionale e che tutti i bambini e gli studenti giapponesi abbiano accesso all'istruzione su un piano di parità. La sicurezza e lo sviluppo sano dei bambini non dovrebbero essere determinati dalla fortuna o dalla sfortuna, come incontrare un adulto comprensivo, afferma Doi. Gli stati hanno la responsabilità di garantire che gli insegnanti siano adeguatamente formati per affrontare il bullismo basato sull'orientamento sessuale e l'identità di genere e per proteggere gli studenti LGBT da molesti e discriminazioni.